Si è appena schiantata in moto la bellissima VIP. Il mondo è sotto shock. Prima di scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Appena deceduta a seguito di un drammatico incidente in moto, la bellissima VIP di cui parliamo oggi ha sconvolto il mondo intero con la sua scomparsa. Questo personaggio, noto a livello globale, ha perso la vita in circostanze tragiche. Con grande tristezza, annunciamo una grave perdita per il mondo dei social network, in particolare per Instagram e YouTube. Poche ore fa è giunta in redazione la notizia della morte di Tatiana Ozzolina, un'influencer russa molto popolare per i suoi contenuti legati alle motociclette. Tatiana aveva una grande passione per le due ruote, che condivideva con i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram e su YouTube, dove era molto seguita. Purtroppo, Tatiana ha perso la vita in un tremendo schianto avvenuto con la sua moto a Izmir, in Turchia. La ragazza aveva pubblicato il suo ultimo post alle 10 del mattino e poche ore dopo è avvenuto il tragico incidente. Tatiana Ozzolina è morta a soli 38 anni. Era una persona molto bella ed elegante, con una sconfinata passione per la moto, che purtroppo le è stata fatale. Ti invitiamo a lasciare un commento per esprimere le tue condoglianze e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video, a presto con un nuovo contenuto su Febbre da Gossip.